Ciao a tutti ragazzi sono Rineganevo e oggi siamo su questo video dove vi farò vedere come vince il troffè nascosto di Call of Duty Modern Warfare Remastered Praticamente il troffè si chiama Paradosso Temporale nel quale dovevamo uccidere Makarov in questo gioco e non in MV3 Makarov si trova in una jeep dove inquadrerò prossimamente e praticamente per vincere il troffè bisogna sparare a Zakarev o come cazzo si chiama Staccagli il braccio e subito dopo uccidere quell'uomo sulla jeep Il troffèo è molto semplice da fare bisogna solo avere mira e colpirlo Spero che il video vi sia utile se vi è stato utile lasciate il like e iscrivetevi al canale Se avete bisogno per altri video per far vedere come vincere altri trofei del gioco per platinarlo come sto facendo io Basta che mi lasciate il commento nel video e io vi pubblicherò il video su come vincere quel determinato trofeo Ciao a tutti ragazzi e iscrivetevi al nostro canale